Marciapiedi rotti e pieni di buche, le vostre segnalazioni arrivate a tucronista.tv ci hanno portato nella zona del campus scolastico di Via Negri e più precisamente nelle vie Nicolodi e Piatti. Le telecamere di Tele Libertà hanno riscontrato uno stato di usura e anche molti atti vandalici ai danni in particolare della recente piazza d'arte ricreata tra le scuole. Era la fine del 2011 quando venne inaugurato il campus di Via Negri con le maxi panchine studiate per formare tanti salottini. Il grande spazio era nato per spingere alla socializzazione e all'aggregazione giovanile e unire le migliaia di studenti di Isimarconi, Ipsia, Casali, Tramello, Mediadante e succorsali di Respighi e Colombini. L'intervento riguardava circa 2.000 metri quadrati di strada per un importo di oltre 300.000 euro. Oggi purtroppo vi albergano scritte e danneggiamenti, atti che condanniamo, commenta l'assessore ai lavori pubblici Giorgio Cisini che ricorda tra gli interventi dell'amministrazione la riparazione della fontana avvenuto un anno fa. Abbiamo ripristinato lo scorso anno la fontana ma mi sembra assolutamente l'onore del mondo. Per quanto riguarda i marciapiedi limitrofi, a Piacenza abbiamo 800 chilometri di marciapiedi, le risorse sono sempre quelle, prendiamo atto come in altre zone della città e non appena avremo un bilancio vedremo di dare le giuste priorità, giuste priorità che vanno sulla base di tante situazioni. In questa via, in modo particolare in Via Negra, la presenza di questi alberi non aiuta sicuramente alla buona manutenzione, dopodiché gli alberi immagino e penso che debbano essere tutelati, le dimensioni, la sede stradale ha queste dimensioni, c'è già un senso unico e quindi i ripristini non sono così né facili né duraturi proprio in virtù del fatto che la via alberata che dà anche qualità a chi abita eccetera poi porta con sé questo tipo di strutture. Sono piante che sono state piantate 50 anni fa, 60 anni fa, probabilmente non sono le essenze giuste per le città in cui viviamo perché portano con sé proprio questo tipo di problemi.